Buongiorno, bentrovati in una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Questi titoli di oggi Federpharma ribadisce la volontà di combattere con ogni mezzo gli episodi di speculazione che si stanno verificando sul prezzo delle mascherine. È già intervenuta chiedendo alle proprie organizzazioni territoriali di segnalare eventuali abusi per potersi costituire parte civile nei processi, nonché di compiere i dovuti accertamenti per le successive segnalazioni alle competenti autorità. Federpharma rimane vigile, afferma il presidente Marco Cossolo, qualora effettuati i dovuti controlli fossero confermati episodi di sciacallaggio, ci costituiremo parte civile. Non vogliamo che i cittadini per i quali stiamo adoperando con tanto impegno siano danneggiati, ne vogliamo che l'avidità di pochi leda l'immagine di una categoria che anche in questa emergenza sta lavorando con grande efficienza. Federpharma continua a lavorare per tenere i colleghi più al sicuro possibile dal contagio da Covid-19. Il presidente Marco Cossolo è intervenuto sul tema nell'edizione delle 13 del Tg5 di ieri. Il problema della messa in sicurezza degli operatori in farmacia è concreta, perché mancano le mascherine. Nel frattempo abbiamo invitato i colleghi a predisporre sul banco delle barriere in plexiglass. Inoltre abbiamo chiesto all'autorità di poter fare il servizio a battenti chiusi su base volontaria, previa autorizzazione delle autorità competenti laddove non si possano garantire le condizioni di legge. Vediamo il se intervento. Questo è un problema concreto, perché mancano le mascherine. Abbiamo invitato i colleghi a predisporre sul banco delle barriere in plexiglass per ovviare alle mancanze di condizioni di sicurezza. Stiamo lavorando con Cittadinanza Attiva, di cui ringrazio il segretario nazionale Antonio Gaudioso, per reperire il primo lotto di mascherine da mettere a disposizione gratuita di tutti i colleghi. Purtroppo non tutte le farmacie dispongono di spazi sufficienti per garantire le giuste misure di sicurezza previste dalla norma. Abbiamo chiesto alle autorità di poter fare il servizio a battenti chiusi, ovviamente su base volontaria, previa autorizzazione delle autorità competenti, laddove non si possano garantire le condizioni previste dalla legge. Per venire incontro ai cittadini abbiamo predisposto due numeri verdi per la consegna domiciliare del farmaco. Uno gestito direttamente dalla Federpharma e un altro gestito in convenzione con la Croce Rossa italiana. Le domande sono moltissime ed è giusto che i cittadini cerchino di muoversi il meno possibile. Noi con questo grande sforzo organizzativo cerchiamo di venire loro incontro perché si muovono da casa il meno possibile. La trincea delle farmacie italiane è così che il presidente di Federpharma, Marco Cossolo, definisce la battaglia giornaliera dei farmacisti contro eventuali contagi nello svolgimento del proprio lavoro al banco. Ospite di Coffee Break sulla 7, Cossolo ha ringraziato tutti i colleghi che stanno facendo un lavoro eccezionale. Due sono stati i problemi che abbiamo affrontato. Il primo, quello della scarsità di gel disinfettanti al quale abbiamo potuto sopperire all'estendo, in collaborazione con la Sifap, il preparato direttamente in farmacia, evitando l'impennata dei prezzi. Poi, quello della mancanza delle mascherine che abbiamo cercato di aggirare all'estendo ai banchi degli schermi di Plexiglass. Per evitare usi impropri dei servizi per la consegna dei farmaci a domicilio, Federpharma ha predisposto una locandina per diffondere il numero verde per il servizio gratuito di consegna dei farmaci. Attivato da Croce Rossa Italiana è Federpharma per le persone over 65, soggetti con sintomatologia da infezioni respiratorie e febbre, persone non autosufficienti, sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al Covid-19. Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il servizio invece, gestito solamente da Federpharma, è attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 ed è rivolto a persone che non sono in grado di recarsi in farmacia perché affette da disabilità o patologie gravi e non hanno nessuno che possa andare in farmacia per loro. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. Il telegiornale di Federpharma Channel torna la prossima settimana. Buona giornata!